buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video allora oggi abbiamo diverse tematiche è un lunedì ma è un lunedì importante perché è l'inizio di una settimana che molto probabilmente poi ci porterà ad alcune ufficialità avremo secondo me in questa settimana le prime ufficialità lato panchine perché perché ieri si è conclusa ufficialmente la stagione di tutte le squadre di serie a poi ci saranno gli europei lo sappiamo ma le squadre di club non giocheranno più dopo la vittoria della fiorentina contro l'atalanta per 3 a 2 il che significa che ora tutti i tecnici inizieranno questa sorta di effetto domino e da quel momento in poi quando le squadre inizieranno ad ufficializzare i tecnici inizierà il mercato io ieri non vi ho parlato del licenziamento per giusta causa della juventus nei confronti di allegri perché è ancora tutto in divenire quindi è una situazione che secondo me ci porteremo dietro per le lunghe sarà un discorso relativo più ai tribunali che ai campi da calcio mi sembrava superfluo sottolinearlo però qualcuno mi ha detto perché non ne ha fatto nessun riferimento beh semplicemente perché ormai allegri è il passato della juve questo non è un discorso legato al campo è un discorso che centrerà con la juve per forza di cose perché a pagare o non pagare l'ingaggio di allegri e poi la differenza avviene sul bilancio e quindi anche sul mercato della juve però ripeto che secondo me sarà un discorso che affronteremo un po più avanti però già in questa settimana potrebbero esserci degli annunci importanti come quelli di tiago motta alla juventus ed antonio conto al napoli quindi sediamoci mettiamoci comodi e vediamo come verrà sviluppato poi questo calcio mercato estivo 2024 che ci porterà la stagione 24 25 che mi dà anche un certo hype devo dire la verità intanto abbiamo completato anche la serie a perché ieri sera il venezia ha battuto per 1 a 0 la cremonese quindi è l'ultima squadra promossa in serie a insieme a parma e como si sta delineando veramente un campionato molto molto interessante sia con le neopromosse sia con i nuovi tecnici quest'anno parte una sorta di mini rivoluzione nel campionato di serie a perché si concludono diversi progetti iniziati tre anni fa e quindi ci sarà da divertirsi anche con un po di inediti un po di novità lato europei quindi anche lato juve in realtà federico gatti oggi raggiungerà la nazionale raggiungerà coverciano insieme a gialluca scamacca federico gatti era stato pre convocato dopo l'infortunio di acerbi che lo costringerà a saltare l'europeo e perché raggiungerà coverciano perché ieri purtroppo al minuto 80 di atalanta fiorentina 2 a 3 scalvini ha avuto un bruttissimo infortunio è stato ufficializzato la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro e quindi voglio fare un grandissimo in bocca al lupo a scalvini non tanto perché salterà l'europeo certo questa è una cosa che che gli darà noia però l'infortunio è un infortunio pesante è un infortunio tosto è un infortunio sul quale ora dovrà lavorare tanto avrà necessità di concentrare tante energie su questo recupero e lo sento particolarmente vicino perché ho rivisto il video dell'infortunio sono andato a recuperare il pezzo su da zone ed è stato esattamente la dinamica con cui mi sono rotto il crociato io a febbraio identico letteralmente identico mi sono venuti i brividi perché mi è successa la stessa cosa non c'era contrasto non c'era un'elevatissima velocità non c'era niente era una semplice corsa come se ne fanno a bizzeffe a milioni come ne abbiamo fatte tantissime su un campo da calcio quel particolare stress deve aver dato fastidio alla muscolatura e al tendine che è saltato e ho visto proprio la disperazione di scalvini che aveva capito subito così come avevo capito subito io sono proprio quelle dinamiche che ti tolgono ti tolgono la tranquillità ti tolgano l'energia e adesso quindi un grandissimo bocca al lupo per questo recupero al di là dell'europeo di quello che può perdere l'italia io voglio concentrarmi sul ragazzo perché al di là di luca toselli che l'ultimo degli stronzi non ha necessità di giocare a pallone lui sì si stava costruendo una carriera meravigliosa con la vittoria anche dell'europa league soltanto poche ore fa praticamente pochi giorni fa e mi dispiace tanto mi dispiace tanto perché anche un giocatore che si sta costruendo una buona carriera e che poteva essere un nome mercato anche per per questa campagna acquisti quindi un grosso in bocca al lupo a scalvini torna presto torna più forte di prima per quanto riguarda invece la juve oggi voglio parlare un pochettino di federico chiesa perché perché io ho letto che c'è qualche testata che che sta iniziando a parlare di federico chiesa di difficoltà di rinnovo legato a federico chiesa io voglio provare a raccontarvi la situazione federico chiesa dal mio punto di vista perché io sono del partito che la juventus oltre ai vari sulle e huizen poi magari questa roba non succederà e saremo magari qualcuno felice qualcuno triste però secondo me oltre a sulle e huizen quindi tutti i ragazzi la juventus farà anche un'altra grande eccessione se non due magari perché per me uno tra chiesa e bremer uscirà dalla juve poi magari davvero tutti e due però per me uno tra chiesa e bremer uscirà dalla juve e se devo essere onesto penso più federico chiesa piuttosto che bremer perché perché abbiamo comunque due situazioni diverse bremer appena rinnovato il contratto è stata inserita una clausola che partirà dall'anno prossimo e quindi per me l'intenzione della juve è cedere bremer l'anno prossimo dopo avergli fatto fare un anno al fianco di calafiori in difesa federico chiesa invece tra un anno andrà in scadenza di contratto gennaio giugno 2025 quindi da gennaio lui potrà già firmare a zero per qualsiasi squadra c'è stata questa battuta di chiesa dopo la finale coppa italia in conferenza stampa dove addirittura lui chiede alla responsabile della comunicazione della juventus se poteva dire una determinata cosa e cioè io voglio rimanere alla juve la juve vuole trattenermi ci siederemo al tavolo delle trattative al termine della stagione ora io non so se la juve lo vorrà fare primo dopo l'europeo io immagino che oggi chiesa sia prettamente concentrato sull'europeo perfettamente concentrato sull'europeo e così deve essere giusto che sia così perché sarà coverciano che prepara tutta questa spedizione giustissimo così a proposito di crociati tra l'altro perché federico è un altro di quelli che purtroppo è passato da da questo brutto infortunio però io immagino che la juve stia iniziando un po ad ascoltare le offerte devo dirvi la verità quando era venuta fuori quell'ipotesi di rinnovo ponte di chiesa fino a 2026 mi ero un po stupito avevo fatto questa faccia qui per la serie ma perché mai chiesa dovrebbe accettare un rinnovo fino al 2026 secondo il correre dello sport ci sono un po di difficoltà lato chiesa ma secondo il correre dello sport ci sono state un po di difficoltà anche lato tiagomotta e si parla di ingaggi e quindi robe legate ai soldi principalmente io non so se è un discorso economico mi sembra strano che chiesa oggi possa andare a bussare la porta della juve e dirgli senti juve hai visto che stagione ho fatto dopo essere tornato al crociato mi devi dare più soldi perché la stagione di chiesa è stata una stagione normale o comunque forse anche al di sotto degli standard di rendimento per quello che un calciatore come federico chiesa io non credo che chiesa sia soddisfatto della sua stagione che è stata un po intermittente bene all'inizio bene alla fine nel mezzo poca roba quindi non penso che chiesa a maggior ragione dopo quello che in realtà nessun giocatore a maggior ragione dopo quello che è stato il giro di ritorno possa permettersi andare a bussare la porta della juve direi più soldi e poi all'interno di un ragionamento societario che prevede l'abbassamento dei costi di gestione e l'abbassamento degli ingaggi io credo che nessun giocatore della juventus oggi possa andare a chiedere più soldi alla juve con un rinnovo di contratto si sa qual è la politica la strategia del club e si sa che si viene da un girone di ritorno veramente veramente deludente non si può chiedere più soldi sarebbe follia per me un giocatore della juve che va a chiedere più soldi è ovvio che però se si parla di rinnovo almeno quelle cifre si va a mantenere e l'ingaggio di chiesa intorno ai 5 milioni per me è un ingaggio giusto giustissimo per quelli che sono oggi parametri societari della juve basti pensare che lo stesso tiago motta andrebbe a firmare un contratto su quelle cifre lì quindi stiamo parlando comunque di cifre alte all'interno di un club come la juve che dovrebbe avere il tetto massimo degli ingaggi intorno ai 7 milioni e rabbio che si parla di questo rinnovo a 7 milioni con tanto di decreto crescita io credo che quindi tra i 5 5 mezzo forse 6 sia il massimo in assoluto che la juve si sogna di dare oggi a dei calciatori quindi chiesa andrebbe a rinnovare delle cifre che lo considererebbero tra i più pagati tra i più importanti tra i più decisivi della rosa juve e per me è giusto così perché chiesa è un giocatore molto forte però dal lato di chiesa perché facevo quella faccia lì dicevo a chiesa conviene oggi andare a rinnovare di un anno un contratto che farebbe quasi più un favore alla juve della serie vabbè me lo valuto sotto un'altra guida tecnica forse anche chiesa e magari fa questo ragionamento voglio vedere se sotto tiago motta possa essere un giocatore importante e se posso tornare ad essere quel giocatore lì e poi l'anno prossimo magari mi apro la possibilità di andare a giocare in un club più importante perché oggi la valutazione di chiesa non può essere elevata dopo essere tornato da un crociato dopo essere tornato da questo tipo di stagione con la juve che è una stagione ni per uno come chiesa con un solo anno di contratto alle spalle per forza di cose tutti questi fattori vanno ad abbattere il cartellino quindi io credo che la juventus 25 30 milioni per chiesa li accetterebbe quindi significa che diventa un'occasione di mercato e se l'anno scorso si erano interessate squadre estere squadre di premier ma non di prima faccia e quindi chiesa aveva semplicemente declinato ringraziato per l'offerta e detto no grazie ecco che oggi possono aprirsi anche dei scenari italiani perché comunque 20 25 30 milioni a seconda di quelle che poi possono essere delle considerazioni degli incastri metodi di pagamento contropartite eccetera eccetera possono aprire scenari interessanti per alcune squadre in italia e ce ne sono due su tutte prima era roma abbiamo già discusso l'abbiamo già detto si è parlato tante volte di questa roba qui tra l'altro il correre dello sport di cui parlavamo prima che parla di problemi con chiesa stringe un po anche l'occhio alla roma e ai romani perché comunque un giornale molto letto dai tifosi della roma ma secondo me non solo perché anche il napoli di antonio conte potrebbe essere una seria candidata per l'acquisto di federico chiesa a questo tipo di cifre secondo me si può ragionare e dato che la juve invece interessata di lorenzo chissà che non possa esserci davvero uno scambio prima si parla di di lorenzo e danilo secondo me impossibile poi oggi siamo nel fronte chiacchiere lo sappiamo ma uno scambio chiesa di lorenzo con un buon conguaglio a favore della juve tipo 10 15 milioni io non sarei molto stupito sono sincero non sarei molto stupito perché perché oggi la juve se deve cedere un pezzo grosso e deve monetizzare un giocatore come chiesa che in scadenza di contratto come ci pensa un po di più dovessero poi essere confermate le voci che tiago motta non apprezza particolarmente chiesa invece vuole blindare blindare bremer ecco che 2 più 2 fa 4 è quella convinzione che io che non significa che corrisponda al vero ma è una mia convinzione quindi ragiono su quel binario che ne devo cedere uno dei due è più facile sostituire forse chiesa o magari vendo chiese tengo su le oggi siamo ancora nel pur parler però sono anche quegli incastri che in casa juve non possono improvvisare all'ultimo non possono dire vendo sia chiese che su le e poi chi gioca a destra andiamo a prenderlo non sarebbe logico non sarebbe logico quindi la juve deve ragionarci a priori e sono questi qua i giorni i momenti in cui queste trattative si incastrano i giorni in cui i tecnici firmano i giorni in cui i giocatori sono in nazionale a preparare europeo ma anche i giorni in cui i direttori sportivi programmano la campagna acquisti anzi programmano l'hanno già programmata mesi e mesi fa agiscono vanno sulla campagna acquisti sarebbe interessante questo discorso legato a di lorenzo che però il napoli ha già prontamente smentito come con un comunicato no no di lorenzo rimane ma quando poi gli agenti si mettano di mezzo secondo me è sempre difficile il napoli deve fare la voce grossa in quel caso perché è giusto così però se si parlava di blocco italiano ecco che di gregorio calafiori di lorenzo tutti i giocatori che vanno in quella direzione lì anche a costo di cedere chiesa che fa parte del blocco italiano ma per cercare dare una leggerità anche dal punto di vista anagrafico perché e non solo economico perché scesni lo sappiamo io vorrebbe cedere perché guadagna tanto e perché ha un'età un po sopra le righe anche se scesni è un 90 mi pare ed è uno dei più vecchi nel rosa della juve che non è che sia vecchissimo per gli standard del calcio però è uno dei più vecchi uno dei più anziani chiesa diciamo prima uno di quelli che avrebbe lo stipendio terri più pagati non sarei veramente sorpreso non sarei veramente sorpreso questa cosa ma sono ancora tutte un po fantasie che furono nel mio cervello però voglio sapere anche la vostra qui sotto nei commenti fatemi sapere con un bel ragionamento anche da parte vostra mi piace sempre leggervi ciao ciao